ciao a tutti sono qui con i nuovi occhialini non sono più quelli 3d ma sono gli occhialini 4d si quelli che servono per vedere anche i muri si esatto quelle cose lì che volete vedere va bene oggi vedremo che cosa che cosa faremo oggi papi dai oggi cercheremo di giocare una partita sana senza che qualcuno mi urli nell'orecchio speriamo oggi mi ha sedato quindi in pratica sarò più gentile esatto lo spalmato di voltaren per cui è praticamente diventato sciolto e quindi è rilassata ecco dai oggi sono rilassato ok ma allora facciamola una partita di una partita noi facciamo un dominio dominio un dominio vediamo vediamo la classe la casa fa bene principale va bene ok ma che c'è anche questa webcam qui è un l24 c'è un'esperienza leggero 94 24 94 94 dove siamo aspettiamo in overflow overflow non hai mai fatta questa volta mai fatto non ho mai giocati in overflow per cui penso che sia un quartiere di di damasco in siria già tutto bello percorato cos'è questo ecco che sono tutti i vari giocatori dino 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 db bro ranchi nator sergio vecchia tossa fattori l'ange ma chi sono sti qua luki laki quando è che inizia questa partita sergio vetro e goku il cavolo e poi che c'è ancora ma cos'è questo paolo sestri paolo sestri ma paolo sestri ma per favore 2 1 0 incominciamo bene incominciamo ok siamo partiti ragazzi non ho toccato non ho toccato niente niente dove è che siamo adesso siamo appunto overflow con questi occhiali non vedo proprio c'è una mazza siamo in pakistan siamo imparano le parabole in pakistan c'erano le parabole io sono stato effetto tre volte in pakistan ragazzi sono stato anche perché io lavoro con il pakistan voi non lo sapete ma io lavoro anche con il pakistan piano il mio amico bat adesso stai tranquillo vai dove ti porta al cuore attenzione stai attento girati di là attenzione che ci sono i cecchini da di va bene bravo va bene così va bene così come vedete è molto tranquillo non si incazza tra piano attenzione che adesso arriva la gente arriva la gente non stare lì davanti con quello lì arriva la gente da attenzione che era dentro lì è sparato era dentro lì è dentro lì papi spara e lì non va bene non va bene un po si sta incazzando va il tempo che ad asale sta incominciando a sclerare varie e vorrebbe incazzarsi di qua ma io non so fare più un mazzo e la vita che non gioco attenzione adesso qui faccio faccio come ho detto l'altra volta l'autobus e mi fermo qua a aspettare la corriera qui non vedi nessuno ecco adesso qui puoi di là però di là arriva qualcuno papi papi di là papi 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 prendo la bandiera papi così non la prendi la bandiera papi stai attento papi stai attento mi ammazzano lo sapevo non dico niente vedete ragazzi che se non dico niente non fa nessuna uccisione purtroppo dove vai che lì è finita la mappa dove vai ma questa qui non mi piace come mappa ma fa proprio schifo ma dai dai a la a a a a a a ai a a a stai attento stai attento adesso spara spara dai ti stai incazzando vedo sei pronto? dove vai? ma che cazzo dove vai? non lo so io qua vai di la vai di la non riesco a fare una mazza vai di la non riesco rientro cos'è che è sto casino? me ne so corro dove vai? attenzione di lì ecco guarda che spara no stai fermo spara no basta basta e ho capito ma non c'era nessuno ti sei fatto solo vedere vai di la ancora vai di la vai di la vai di vai di la ah cazzo è finita la vai guardalo sparagli papi cazzo sparagli ho tirato fuori un idrante ho sparato fuori l'acqua è uscita l'acqua ho sparato un idrante vai adesso mi sono incazzato vai guarda vai di qua piano vai di lì subito attenzione vai via da qua non andare sul camioncino l'attenzione è dietro l'attenzione è dietro senti mi abbassi la sensibilità qui non è sparata è già abbassata è più abbassata così non si muove attenzione spara spara non ce la faccio non ce la faccio e allora mettiamo di sensibilità 1 non lo so io si 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 dai 2 2 2 dai oh così mi trovo attenzione qua no no aspetta aspetta che arriva vai più avanti no mi ha ucciso mi sto dai l'hai fatto 0 eh fatto 0? si attenzione girati quante volte ti ho detto che se se miri e giri più lentamente vai vai 0 ragazzi dai adesso si incazza adesso ti aiuto io dai forza no 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 dai 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 va bene vai incazzati eh adesso 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 che facciamo la pratica vediamo se riesci a fare un'uccisione però devo togliere questi occhiali non vedo un mazzo allora adesso vai di qua vai di qua vai di qua ok vai 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 attenzione vai vai un attimo mira vai spara sparagli no 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 aspetta aspetta eh ma per però devi andare ma che ca vai non puoi andare sempre dritto però eh cioè devi un po' cambiare la oh adesso non riesci ad andare sulla finestra oh ok mira qui mira qui mira qua mira qui siiii perchè miri lì e dov'è la finestra la finestra è questa qua sembri peggio di un eccolo guardalo papi miri ma miri nooo non mira non mira non mira cioè non mira vai di qua ancora alla finestra devi mirare fa attenzione vedi lì alla finestra senti vai 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 eh ma vedi se vado lì mi ammazza subito eh ma perchè campera questo qui eh campera campera ma vaffan bagno vai 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 adesso dai dai adesso qui è uno eh devo ucciderne uno è difficile è difficile non riesce ma con questa mappa qui non riesce a ucciderlo è tuo amico il becco gira gira vai di allora vai di lì vai di lì vai di lì vai di lì perchè ti piace questa macchina papi cos'è mamma mia mamma mia veramente oggi non riesce neanche a girare non riesce chi cazzo che è vai ma non lo so cosa stai facendo non si capisce che cosa stai facendo sto cercando di girare no allora guarda qua ci sono sicuro vai vai papi dove cosa perchè miri lì penso che ci sia qualche cazzo adesso mira adesso mira eh ma che cazzo è affredato parola vai ah mi hai fatto fare un giro della morte vai 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 eccolo eccolo ma ma sei peggio di un non lo so vai più giù di un macaco dai eeeh hai perso, hai finita la partita basta, zero ragazzi questa sera è veramente pietosa la cosa no no, va bene mi ha tirato un missile, e che cavolo anche il missile madonna mi ha dato un missile nel nel dietro no no, ne facciamo un'altra adesso va bene dai dobbiamo fare un'altra assolutamente questa qui è andata a cagare guarda zero, diciannove morti diciannove morti zero sono zero su zero bene ragazzi chiudi chiudi la diretta continua no, continua no, cosa fai? abbandonano la lobby, ricercano un'altra adesso cerchiamo di fare qualcosa cambiami cosa cosa? no oh vai 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 papi adesso piano con calma eeeh attenzione spara, spara papi papi no, perchè non miri? no, ma perchè non miri? mi lo spieghi? attenzione mira lì perchè miri lì? mira lì bravo attenzione che adesso adesso non arrivano guarda per fortuna che non ha registrato per fortuna girati dall'altra parte attenzione da adesso di qua papi girati là ecco vai adesso piano attenzione cazzo perchè giri così piano? e perchè così no, perchè miri almeno almeno non si può mirare papi 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 vai allora non lì vai stai fermo ho sparato all'ucciso? non l'hai ucciso ti ha ucciso a lui guarda che qua ti prende il cecchino eh mira e spostati ma riesci a mirare spostandoti? guarda che mirare dove è il cecchino? guarda che mirare si può anche spostare eh ti puoi anche spostare mentre miri eh non solo la visuale papi ti sta puntando vai vai perchè perchè vai solo dritto? oh vai di qua adesso attenzione attenzione mira adesso mira che adesso eccolo sparagli vaffan stasera stasera sono in perfetta forma proprio la mente è una schifezza attenzione sparagli guarda lì in fondo e ormai l'ho ucciso non l'hai ucciso girati di qua di lì vai adesso vai sparà certo che proprio oggi non vedi un oggi proprio zero oggi oggi zero oggi non ci sono oggi non ci sono sono stanco bambini l'ho ucciso con un po' il cerco no cerco che se però lui ti viene e tu non miri eh 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 c'è poco da fare qui ormai mi sa che il tuo insegnamento non serve niente allora adesso campere basta anche se camperi non riesce a fare un'uccisione girati mi fai venire mal di testa girati perché spari adesso qui per favore vai di lì ecco mira adesso perché spari che ti vedono mira stai fermo perché in alto c'è un piccione spara papi è andato via no è andato via un cazzo spargagli ma che roba adesso campero basta mi metto a camperare mi butto per terra attenzione c'è la bomba ho preso un portello è già finita non è possibile non si può non si può fare una cosa del genere ragazzi non ho parole cos'è cos'è che è chi è che sta spiegando ma non sono io io ho fatto zero vittoria però abbiamo vinto abbiamo vinto hai fatto zero abbiamo vinto abbiamo vinto guarda anche se io ho fatto 100 punti non si può non si può fare così basta chiudiamo ragazzi chiudiamo che adesso blalalà mi sono mosciato io doveva mosciarsi lui e invece non ha resistito voleva fare una cosa dove io ero tranquillo è sudato schifoso è una schifezza di sudore quindi allora che cosa vuoi fare niente lasciamo lì per questa sera non faccio più niente perché sono una sei cotto sono cotto niente allora allora ragazzi mi dispiace purtroppo di una cagata ragazzi sono veramente cotto come un biscotto quindi non dovete guarda allora ragazzi il maturocina con il suo papi che stanno giocando si è che si incazza sempre ma ci stiamo divertendo un casino quando soprattutto quando non uccide nessuno ragazzi io non uccido nessuno perché sono buono non voglio uccidere nessuno bisogna essere buoni annuncia il tuo prossimo live il mio prossimo live il prossimo live vuole farmi fare un live con voi ragazzi e questo live ho paura fottuto nel live fai la home face papi la home face no non è così devi fare una cosa così un po' così l'home face vai fallo fallo eccola la home face la home face io ti farò una leva adesso la parte è la leva cinna questa è una leva che posso spaccare il braccio in tre punti ok va bene quindi per oggi è tutto stai proprio davanti stai davanti all'obiettivo fermati 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 allora allora dici dico ragazzi cosa fai l'onda dietro cosa fai no ragazzi grazie di aver visto questa carata e poi e poi ci rivedremo alla prossima non vi deluderò no la prossima ammazzerò tutti 10 20 uccisioni 100 uccisioni prende lo sciame guarda la prossima volta prende lo sciame prenderò tutto sai cos'è lo sciame? no cos'è lo sciame le api le api si ci sono le api ma che le api le api le api piaggio dai che cosa va bene ok siamo stati espulsi siamo stati espulsi ah siamo stati espulsi ma si eh ma ancora sta registrando sta registrando ancora ma ancora ma no basta basta chiudi chiudi ciao ragazzi ciao 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 bla 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 Grazie a tutti.